Ci vediamo anche che non ci sono le viste, ma non c'è un po' che vi vediamo. Oggi in parte, ma non c'è un po' che vi vediamo. Sì, ovviamente è arrivato il gol che aspettavo da tanto tempo, ci lavoravo da tanto tempo. Sono stato parecchio fuori lo scorso anno, sono stato a lungo fuori per un infortunio e ancora dovevo riprendere forma, ancora non è il Giuliano Regolanti che era prima. Piano piano però sto lavorando apposta per tornare come prima. Sì, tra l'altro avevo detto a Talamo che la palla arrivava lì, quindi ci ho creduto e sono andato lì con tutta la cattiveria e ho fatto gol. Sicuramente il mister ha fatto delle scelte, io le rispetterò fino alla fine, però ogni volta che entrerò in campo darò sempre il massimo per conquistarmi il posto a titolare. No, noi siamo sempre allegri anche durante la settimana, no non è un peso, il campionato è difficile, è un campionato tosto, però anche è un campionato lungo, quindi la squadra sta prendendo forma e piano piano secondo me ne usciremo alla grande. Mi piace uno vicino a me, perché 4 di 3 sono troppo solo e mi è sempre piaciuto giocare con il trequartista dietro di me, mi muovo meglio, anche visto oggi, 4-2-3-1 secondo me è uno dei motori più belli da parte mia, poi se il mister vuole giocare 4-3-3, giocheremo anche così. Non ho capito l'ultimo... Ogni sbaglio che facciamo veniamo sempre poniti, siamo giovani, purtroppo il campionato è difficile anche per questo qui, ci sono attaccanti che non si perdonano se sbagli, quindi dobbiamo migliorare anche sotto questo punto di vista. Va bene così? La mia fidanzata. Grazie. Grazie.